Il testo è tratto dal libro Quaderni del 1943 di Maria Valtorta, edito dal centro editoriale valtortiano. 10 agosto 1943 Mi lamento piano col Signore perché aprendo, come mia abitudine, a caso il libro del Vangelo o della Bibbia mi fa, anche questa mattina, cadere sotto gli occhi un punto tristissimo. Geremia, capitolo 9 Avrei tanto bisogno di una parola di speranza per la mia povera patria. Riconosco che siamo colpevoli delle colpe di cui siamo accusati e puniti ma amore di patria mi fa sentire dolore delle affrizioni con cui Dio ci colpisce. Gesù mi lascia lamentare e poi mi richiama l'attenzione sui versetti 23-24 e sull'ultima frase del versetto 25 Comprendo che sarò istruita su questo e aspetto Dice Gesù La preghiera è buona e santa cosa Buona cosa è pure meditare e studiare la sapienza Ma nulla è più utile all'uomo di una conoscenza Quella di essere convinto di Dio Quando uno ha conosciuto veramente chi è il Signore Non sbaglia più Sa pregare non con un moto macchinale di labbra Dal quale esulano seri i propositi di bontà Di perdono Di continenza Di umiltà Ma con vera adesione a Dio Ma con vero proposito di praticare sempre meglio la legge Per essere benedetto da Dio Quando uno ha conosciuto chi è il Signore Possiede per sempre la scienza La ricchezza La forza Che danno la gloria vera Che non muore in eterno E che piace a Dio Voi fate preghiere e preghiere in questi tempi Ma non servono come dovrebbero Non pensate che il vostro Dio Abbia cambiato la sua natura di infinita bontà E di paternità perfetta È che a Lui voi presentate preghiere contaminate da troppe cose Spogliatevi della triplice veste Che opprime il vostro spirito e lo contamina Via l'ipocrisia Via l'odio Via la lussuria Vi sarebbero altre cose da levare Ma queste sono le più abbiette ai miei occhi E siete ipocriti Quando venite a me per funzioni religiose Che compite con senso umano E non soprannaturale Ma chi volete ingannare? Me? O infelice? Vi potrete ingannare fra di voi Mostrando un volto di religione Una maschera Anzi Sul volto vero che è di irreligione Perché religione vuol dire Ubbidienza ai desideri E ai voleri di Dio E voi nelle grandi e piccole cose Disubbidite a Dio Potrete ingannarvi fra di voi Ma il vostro Dio Non lo ingannate Che diresti, Maria? E che faresti? Se uno ti offrisse un mazzo di fiori O un piatto di frutta Tutto sporco, bacato E faceva meglio a non offrirtelo Perché ti ripugna e ti offende Ecco Io dico lo stesso Della maggioranza delle vostre preghiere Odiate Sicuro Odiate E siete così appesantiti nello spirito E neppure ve ne accorgete Di essere pieni di astio Verso tutti E di egoismo Ma che vi ho detto io? Se quando stai per pregare Ti sovvieni davvero offeso il fratello O che egli ha qualcosa in cuore contro di te Riconciliati prima con esso E poi vieni Condizione essenziale per essere ascoltati È di non avere in cuore l'odio che uccide l'amore Come potete venire a me Che sono misericordia Quando non siete misericordiosi? Come potete giudicare e pensare che io E sono giustizia Non vi giudichi? Non vedete che dando condanna d'odio Verso chi vi nuoce E non fu forse il primo Ma il primo foste voi Non vedete che da voi stessi vi condannate Siete lussuriosi Quanta lussuria Della carne Della mente Del cuore Dilaga sul mondo Sgorgando da voi Come da tante bocche di fontana E cui origini siano nel profondo Dove regna il nemico È un diluvio Non voluto da Dio Ma da Satana E dal quale vi siete prestati Quello che si riversa sulla terra E vi scaccia la luce La verità La vita È luce È verità È vita Come colomba che non ama Il fango putrido Si ritira nei cieli Scendendo rapida da essi Per raccogliere il volo Sulle rare creature Che come vette di monte Emergono sulla fanghiglia Che vi disonora Il mio figlio di letto Ha preclusa la sua dimora Fra gli uomini Dagli uomini stessi Ascoltatelo O voi che ancora lo sapete fare Voi che resistete All'onda corruttrice Per amore nostro In lui è la salvezza Perché egli è l'eterno redentore Ed i meriti infiniti Del suo infinito dolore Operano in eterno Ma voi li sterilite Sotto il corrosivo del male satanico Di cui siete ripieni Io ancora del suo sangue Sugli ebrei Questo vostro distruggere in voi Gli effetti del suo sangue Col peccato Che amate come la vostra vita di un'ora Vi condanna E vi fa degni del mio castigo Cuori incirconcisi siete Non sapete Non volete mettere anello di triplice penitenza Quel vostro cuore Che avete tolto a Dio E avete dato al nemico di Dio E del genere umano Questo è quello che è necessario Perché io intervenga Pentirvi E fare penitenza Senza queste due cose Ogni vostra preghiera Ogni vostro atto religioso È menzogna e offesa Che fate a Dio E se lo spirito d'amore Non può più operare in voi I prodigi dell'amore Perché il vostro agire Neutralizza la sua azione E se il verbo del padre Non può più operare i miracoli Del suo sangue e della sua parola Perché in voi sono forze contrarie Il padre Il signore Il Dio Può sempre agitare su voi La sferza della punizione E difendere in sé Le tre divine persone Troppo 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 Offese Dall'umanità Dall'umanità produits Viore Viore E difendere in sé